Martedì 27 ottobre, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV alla rassegna stampa del mattino, oggi è il 27 di ottobre, siamo a martedì e ci apprestiamo a vivere un'altra giornata insieme, insieme a voi, insieme a tantissimi di voi che ci seguite con affetto ogni giorno e ci avete seguito anche ieri sera nella lunga diretta con il telegiornale e poi primo cittadino dopo. Allora questa mattina ovviamente nella rassegna stampa tante sono le notizie che riguardano le proteste, le proteste che ci sono state ieri in piazza in tutta Italia compresa Piazza del Popolo a Pesaro, ma prima di vedere i giornali andiamo a vedere il calendario del giorno con il Santo, oggi è Sant'Evaristo, il sole sorgerà alle 6.41 e tramonterà alle 17.08. Nella prima parte della giornata di oggi avremo cielo nuvoloso, poi dal pomeriggio sono previste schiarite in particolare nel settore centro settentrionale, le precipitazioni saranno sparse nella mattinata, localmente anche a carattere di rovescio, di maggior consistenza però nelle zone interne della regione, poi dal pomeriggio come abbiamo detto sono previsti locali e brevi fenomeni residui, limitatamente però al sud della regione Marche, per quanto riguarda la giornata di mercoledì domani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, giovedì 29 lo stesso parzialmente nuvoloso, tempo stabile anche per il fine settimana. Velocemente andiamo a vedere l'apertura del nostro sito internet, occhianotizia.it, non poteva essere diversamente l'apertura per il ristoratore pesarese che tiene aperto il suo ristorante, irruzione della polizia in diretta tv, questa è la nostra pagina d'apertura, ecco la fotografia della polizia davanti all'ingresso del ristorante e pizzeria La Macelleria che ieri a Pesaro intorno alle 20.30 è stata visitata dalle forze dell'ordine, polizia di stato così come la polizia locale, l'irruzione come dicevamo è stata seguita possiamo dire così in diretta qui su Fano TV ed è questa, queste sono alcune fotografie che sono state prese dal video girato dal nostro operatore. Il sindaco Ricci ha definito questa iniziativa una pagliacciata, ha annunciato sanzioni pesanti del questore e del prefetto di Pesaro e Urbino, ma non c'è soltanto Pesaro, c'è l'Italia, l'Italia da nord a sud che si ribella, che protesta per queste restrizioni. Allora, centro pagina, qui siamo sul resto del carlino, la pagina nazionale, l'Italia della rabbia, gruppi ultra cavalcano la protesta contro le misure anti-covid, Molotov e feriti a Milano e Torino, il Viminale, fase pericolosa. E poi Mattarella che dice non si muore solo di covid, allarme del Presidente, il vero nemico è il virus, ma invita a non trascurare le altre patologie. Rinviati troppi screening e cure. In Italia 430 morti al giorno di tumore e 630 per malattie cardiache. Uno studio della Cattolica dice un italiano su dieci ha già contratto il morbo. La pagina di Pesaro del Carlino, la piazza sotto assedio, titolo della fotonotizia, esplode la ribellione all'ultimo decreto, quasi 500 persone tra cui molti gestori di bar e simili, assembrate sotto la Prefettura. Il grido di libertà vogliamo lavorare. Alta tensione, agenti fanno barriera all'ingresso. Ristorante pieno, il rompe la polizia, erano in 90 alla macelleria di via delle Galigharie e il locale chiuso per 5 giorni, 400 euro di multa al titolare. Poi cambio di presidenza, vertici Confindustria, Pesaro lancia l'ultimatum ad Ancona e poi lo sport con il Gubbio unico risultato e la vittoria. A Urbino invece febbre e tosse, 30 studenti in isolamento ai collegi, nuovi contagi, 3 positivi all'INA, il allarme dei sindacati chiedono più sicurezza e poi dopo la serrata cinema e teatri riapriremo e torneremo. Più forti di taglio basso invece sempre sulla prima del Carlino crolla la domanda, il tartufo è meno caro, la richiesta viene solo dall'estero e poi violenza sessuale e furti in casa, le nostre criticità, c'è la classifica del sole 24 ore, criminalità, la provincia tra le prime 15 più sicure in Italia e la migliore delle marche. Il Corriere Adriatico invece edizione di Pesaro, l'apertura nelle marche 4.000 positivi, superato il record di aprile, in ottobre infezioni quintuplicate, altre due vittime e crescono i casi gravi, ospedali sotto pressione, 16 strutture in prima linea a Torrette, 74 ricoveri e vicino al punto di stress. A centropagina sfidano i divieti, arriva la polizia dopo la protesta in piazza del Popolo e poi da Mondolfo, Don Almerino ricoverato al reparto infettivi, lui rassicura tutti, sto bene. Il campo scuola invece resta aperto ma è super vigilato e sempre da Pesaro porta a Cappuccina richieste risarcitorie del tutto infondate. Poi prima graduatoria nazionale merito di drone Racing Fano, l'associazione sportiva di lettantistica fanese ha portato in città la tappa della Coppa Italia e poi c'è al collegio una produzione della RAI che è molto seguita dai giovani, c'è Sofia Cerio, Montecchio Tifa per lei. La rabbia contro le misure scende in piazza scontri molotov e feriti a Milano e Torino da nord a sud, gruppi ultra e di estrema destra cavalcano la frustrazione degli esercenti, sassi e petardi sul palazzo della regione Lombardia. Dunque in piazza però per non morire di anti-covid, in piazza contro un DPCM che non convince, da Torino a Lecce, da Sanremo a Palermo, passando pure per, abbiamo visto, per Pesaro. Il popolo del no scende in piazza contro il mezzo lockdown che colpisce selettivamente alcune attività e non risolve i nodi cruciali. Questo che vedete è un ferito a terra a Torino, intanto in Piemonte, bombe carta contro gli agenti, negozi saccheggiati, fermati, dieci pregiudicati e due poliziotti colpiti. Anche in Lombardia, la stazione centrale, un poliziotto rimasto ferito, il corteo è stato disperso, due fermati. A Pesaro invece l'esercito dei disobbedienti tira dritto, restiamo aperti, non vogliamo morire. La protesta di un ristoratore di Pesaro dopo le 18 non chiude il locale e arriva la polizia. Trovate i seduti ai tavoli 90 clienti e amacerate invece la provocazione del presidente degli albergatori che registra i clienti come ospiti ma li fa solo cenare al ristorante. Lui si chiama Simone Iualè, titolare dell'hotel La Rosa dei Venti, si trova a Monte San Giusto nel Maceratese e per consentire, sentite che cosa ha studiato, per consentire alle persone di cenare anche dopo le 18 offre le stanze del suo albergo gratis. Tutto nasce per sottolineare l'assurdità della situazione, spiega non c'è differenza tra chi alloggia nella struttura e chi invece vuole solo concedersi una cena. Il funzionamento di questo pacchetto che lui ha chiamato Infinity è molto semplice, il cliente viene registrato con un check-in in una stanza che gli viene naturalmente offerta per il tempo in cui è seduto a tavola. Terminato il pasto pagherà il conto e farà il check-out. C'è chi invece usa la terapia d'urto a Pesaro. 90 persone si sono date appuntamento nel locale della macelleria alle 20.30 per mangiare. A fatica l'eruzione delle forze dell'ordine, delle forze di polizia, ha interrotto quella che il sindaco Ricci definisce una pagliacciata pericolosa, con il gestore che urla, che urlava, potete arrestarmi, non chiuderò mai. Invece sarà costretto a farlo fino al 31 di ottobre e rischia grosse penalità. Questa è la pagina di Pesaro, in primo piano, anzi del quotidiano nazionale. Quindi questa notizia la troverete in tutta Italia nel quotidiano nazionale. Poi questa invece è la pagina che riguarda Pesaro e quindi l'edizione pesarese. Alle chiusure rivolte in piazza, quasi 500 hanno sediato la prefettura, minuti di tensione, core, fischi, cartelli, ci sono ristoratori ma anche titolari di palestre e artisti. L'ideatore della protesta, che è Carriera, ricevuto dal prefetto, poi dice apriamo tutti. Mattia Colocci dice io non mollo, mentre Marcucci Pinoli ho 220 dipendenti, chi me li paga? Ed ora un uomo con il megafono infiamma la piazza, basta, è ora di dire basta, se chiudiamo oggi, chiudiamo per sempre, non ci prendono più per il eccetera eccetera. E quindi questo è stato un po' quello che tra l'altro vi abbiamo fatto vedere, che potrete rivedere anche nel corso della mattinata e nella giornata di oggi sul nostro canale. Il ristoratore, sempre dal Carlino di Pesaro, il ristoratore apre a 90 persone, rompe la polizia, chiuso 5 giorni, la sfida aperta di Umberto Carriera, titolare della macelleria di Via delle Galigarie. 400 euro di multa, un fatto gravissimo però, dice il sindaco Ricci, ciò che sta accadendo alla macelleria è gravissimo, un conto è manifestare legittimamente e pacificamente, e un'altra è fare queste pagliacciate pericolose contro la legge. Ho chiesto al prefetto massima durezza, a Pesaro la legge si rispetta, dice Matteo Ricci. Mentre Carriera, come abbiamo già visto, potete arrestarmi, diceva lui, ma io non chiuderò mai, i clienti se ne vanno e poi scattano i sigilli. Gli altri sotto alle 18, la città scatta il coprifuoco, ci mandano a casa all'ora in cui aprivamo, pub, pub, osterie, bar, fanno i conti con le nuove regole, tra rassegnazione e speranza. Il picco dei 4.000 positivi, questo è il fronte sanitario invece della pandemia, e aumentano i casi gravi. Superato il record di aprile delle infezioni attuali, nel mese di ottobre si sono quasi quintuplicate, sono passati da 17,66 in una settimana i ricoveri tra terapia intensiva e semi. Ieri altre due vittime, tutte, lo ricordiamo, con patologie pregresse, non per alloggerire, ma insomma sembra che adesso si muore davvero solo di Covid, in realtà c'è gente che se ne va all'altro mondo, anche perché chiaramente ha altre patologie e il Covid certo non aiuta. Ieri altri 238 casi, il totale da febbraio è salito a 11.678, i contagiati costretti all'isolamento domiciliare sono saliti a 3.669. Ondata d'autunno, titolo ancora, il Corriere sugli ospedali, già 16 le strutture in prima linea, dieci giorni fa erano attivi solo 4 presidi Covid, ieri 253 pazienti, a Torrette 74 sono i ricoveri, vicina allo stress, l'assessore Saltamartini dice ora curare a casa chi non ha patologie pregresse o non ha crisi respiratorie. e dunque come vedete si cerca il tentativo forse di fare qualche paragone, addirittura qui lo abbiamo superato come numero di contagi rispetto ad aprile, a marzo, però il paragone non regge, questo lo vediamo da soli, insomma ancora la sanità perlomeno qui nelle Marche si sta cominciando a sentire un po' lo stress, ma nulla a che vedere, non ci sono paragoni ancora, diciamocela fino in fondo, insomma non ci sono ancora paragoni con quello che è successo a marzo, dove in realtà poi c'era un caos generale, non si sapeva dove mettere le mani, la gente veniva costretta a rimanere a casa, in ospedale ci arrivavi soltanto quando ormai era troppo tardi, però poi il resto era quello che abbiamo visto tutti, insomma la gente spesso era lasciata lì in abbandono. Oggi la situazione è un po' diversa e anche quando si va in ospedale comunque ci sono terapie, anche se non ce n'è una ufficiale, ma ci sono terapie che se prese in tempo, quindi se arrivi subito in tempo, insomma nella stragrande maggioranza dei casi la situazione si risolve. Poi il discorso è diverso quando invece ci sono malattie pregresse che complicano un po' il quadro clinico. Intanto i medici di base insieme alle USCA, tamponi rapidi, farmacisti perplessi su spazi e sanificazioni, primo incontro della Regione per allargare lo screening epidemiologico. Ora la cosa che strida in tutto questo è che se ne parli a secondo tempo iniziato, il film è già iniziato e noi intanto siamo qui a parlare di spazi e sanificazioni. Quando abbiamo avuto tutto il tempo durante l'estate di pensare e di organizzare a questi tamponi rapidi, a come organizzarsi con i farmacisti, cioè queste cose si preparano in tempo di pace, non durante la guerra e invece noi siamo qui adesso a parlare di tutte queste cose che andavano fatte a mio parere, non sono un esperto, però andavano fatte prima sicuramente. INAIL, tre positivi tra i dipendenti, allerta sindacati, più sicurezza, sarebbe contagiato anche un dirigente, l'istituto ha già attivato il tracciamento dei contatti stretti, CISL e CGL dicono serve anche un esame sierologico su base volontaria, poi un incontro per attivare la prevenzione. Intanto spostati a Fano, neurologia e diabetologia. Due persone che sono decedute, ieri un uomo di 67 anni di Ascoli e uno di 85 di Appignano del Tronto, questo è il bilancio di ieri, tutte e due avevano patologie pregresse, ve lo abbiamo già detto. E quindi nel fine settimana intanto, eccola qua la notizia che riporta partendo dal titolo, nel fine settimana sono state spostate neurologia che si appoggerà alla medicina e la diabetologia. Quest'ultima, secondo gli accordi con l'Associazione Diabetici, avrebbe dovuto invece spostarsi al padiglione del San Salvatore. Proteste da parte del Presidente Muratori, scenderemo in piazza per tutelare gli 8.000 malati di Pesero e del circondario, ha detto. E quindi come vedete insomma ci sono scelte che ancora insomma devono essere un po' digerite, va bene. Donald De Miro, tempra anti-Covid, il sacerdote che ha 86 anni, è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Marche Nord a febbre alta e improvvisa, ma è lo stesso religioso a tranquillizzare i fedeli sulle sue condizioni. Ha avuto la febbre anche fino a 40 gradi Donald De Miro. Poi la richiesta di aiuto al pronto soccorso, quindi c'è stato il ricovero, risultato positivo al Covid-19. L'ex parroco di Mondolfo, il cappellano del Santa Croce di Fanno, da ieri ricoverato in condizioni per fortuna non gravi a Pesero nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Marche Nord. La notizia che il virus aveva colpito anche lui, aveva fatto rapidamente il giro della cittadina di Mondolfo dopo che il sacerdote aveva accusato sintomi riferibili al Covid-19 nel fine settimana. 30 studenti ad Urbino sono invece in isolamento ai collegi, gli universitari presentano sintomi sospetti e sono chiusi in camera, ricevono due pasti al giorno e l'assistenza necessaria. I numeri non preoccupano, nella struttura dormono un migliaio di ragazzi. Ecco dunque una trentina di studenti che sono in quarantena ai collegi di Urbino, la conferma arriva anche dal direttore generale dell'ente regionale, Angelo Brincivalli, che spiega, non sappiamo se ci siano dei contagi da Covid-19 accertati perché non abbiamo ricevuto segnalazioni dall'Asul per la questione della privacy. Questi studenti ci hanno fatto sapere di essere in isolamento nelle camere dei collegi chiedendoci di poter ricevere dei pasti dato che nessuno di loro può uscire. Intanto sul biodigestore il sindaco di Urbino Gambini dice che è una grande opportunità, da noi è sfumato per le interferenze della politica. A Senigallia maestre positive al virus, classe in quarantena, sono tre i casi, uno a Leopardi e le altre a Serra dei Conti e a Darcevia dove le primarie sono state chiuse per la sanificazione. Intanto il Luna Park di Senigallia, dopo le polemiche, arriva lo stop. Dunque il Luna Park di Senigallia spegne le luci, giostre chiuse da ieri, il permesso di occupazione per il suolo pubblico è valido fino al 15 novembre, ma nei giorni scorsi hanno state numerose le polemiche riguardo alla presenza del Luna Park dove molti avevano puntato il dito sui tanti giovani sorpresi senza mascherina nonostante i continui appelli dei giostrai. Intanto il fronte sanitario, sempre da Senigallia, vaccinazioni record, finite le prime scorte. Il dottor Fabrizio Volpini, coordinatore dell'USCA, dice c'è stato un grande afflusso, ora l'Asur dovrà rifornirci. Confindustria ai ferri corti, l'ultimatum ad Ancona. Gli imprenditori pesaresi danno l'out-out ai colleghi del capoluogo. Mauro Papalini deve subentrare a Schiavoni alla guida di Marche Nord. Riunione fiume ieri a Palazzo Ciacchi, a sud sono restii a passare il testimone e allora forse, forse si va verso la rottura. Cioè Pesaro e Ancona, ognuno va per i fatti suoi. Intanto la classifica del sole 24 ore, come dicevamo, crimine noi più sicuri in regione, ma ancora troppi furti, nota dolente sono le razzie in casa, nel 2019 qui peggio che a Napoli, qui inteso come a Pesaro. Altra criticità, le violenze sessuali, siamo addirittura tra i primi 30 in Italia. Altro dato negativo è invece lo spaccio di stupefacenti. Il sindaco Ricci dice dobbiamo tenere alta la guardia. E adesso da Fano, io ristoratore felice. Questa è la storia di Mattia Cosmi, che si trova in questi giorni a Fano, nella sua barca al porto turistico, dove al momento sta soggiornando. Ebbene, Mattia Cosmi, che ha 37 anni, ha aperto tra San Francisco e Los Angeles, quindi negli Stati Uniti, ben sette locali. E lui dice ha progetti adesso anche su Fano. Non aveva, come scrive Maurizio Gennari sul giornale di questa mattina, non aveva la valigia di cartone, come i nostri bisnonni, e non si è imbarcato nemmeno in un bastimento diretto in America. Ma Mattia Cosmi, 37 anni, fa parte sicuramente di quei giovani che hanno voglia di fare e di mettersi in gioco, cosa che ha fatto partendo praticamente da zero. Ha aperto sette ristoranti, due dei quali virtuali, che lo scorso anno hanno fatturato 11 milioni di dollari. In questi giorni, racconta lui, sono a Fano dove non tornavo da tre anni e vivo al porto in barca. Sto per ripartire, ma guardando un intorno e guardando la nostra costa, sto pensando che sarebbe bello investire anche qui. Comunque un'idea già precisa ce l'ho ed è questa. Voglio impiantare in città un ufficio da dove far partire alla volta degli Stati Uniti alcune delle nostre eccellenze. Sto pensando anche a prendermi un capannone. Poi c'è tutta l'intervista che potrete leggere sul Carlino di Fano di questa mattina. Dice, a proposito di business e di cibo, da noi soprattutto piadina, cascioni e pasta fatte in casa. Lo scorso anno abbiamo fatturato 11 milioni, insomma, anche perché gli americani notoriamente sul cibo non devono insegnare nulla assolutamente a nessuno. La protesta delle agenzie di viaggio in comune, azzerate le tasse e rimborsate quelle pagate, e anche le agenzie di viaggio sono sul piede di guerra, questa mattina saranno ricevute dal sindaco di Fano Massimo Seri e chiedono che sia loro assicurata la stessa attenzione che l'amministrazione ha mostrato verso gli esercenti. Intanto andiamo sull'altra pagina del Carlino, sempre di Fano, variante di Gimarra, studio tecnico sbagliato, secondo i 5 Stelle il documento da cui è scaturita la scelta del nuovo tracciato è pieno di difetti, fermatevi perché tanto non c'è fretta. Intanto sull'economia più di un milione per chi innova, l'assessore regionale Carloni annuncia che il bando è in uscita per la ripartenza. Intanto ferita da un amo, ora la tartaruga è tornata in mare e la tartaruga recuperata al porto il 21 settembre è stata curata a Riccione. Anche il Corriere Adriatico di Fano apre con la situazione a Gimarra. La soluzione di Gimarra fa acqua da tutte le parti, per i 5 Stelle è meglio la complanare che costeggia la 14 e da Ponte Sasso a Pesaro, anche se questa poi come abbiamo visto è la soluzione più costosa, così almeno. Permessi ZTL, validità prolungata al 31 dicembre, la decisione della Giunta per evitare assembramenti, il rinnovo su appuntamento. Adesso esenzione totale di tutti i tributi comunali, con fartigianato in calza l'amministrazione fanese in vista del tavolo tecnico. Dopo la mannaia sulle nostre attività non ci accontenteremo di una semplice sospensione delle tasse, chiedono proprio l'annullamento. E poi i residenti della periferia, ville uscenti, segnalano la situazione di pericolo, sempre da Fano fossi ostruiti lungo l'Adriatica, rischio esondazioni. Valcesano, l'assessora sta per diventare mamma, madre. In consiglio c'è dunque il passaggio di consegne. Le deleghe all'ambiente e al commercio passano a Tiritiello. Il sindaco futuro papà si tiene invece i lavori pubblici. Dunque è stato ufficializzato ieri mattina il passaggio di consegne all'interno dell'amministrazione comunale di Mondolfo. E sotto, questa è la fotografia di un fenicottero a passeggio sul lungomare di Marotta. Ieri in Viale Colombo, vicino alle vele, stava in contromano, a dire il vero. Ma comunque il video è stato girato domenica mattina da Jessica Longhini e in poche ore ha ricevuto migliaia di visualizzazioni. Mentre dai fenicotteri si passa ai lupi, a Montecchio. I lupi sono vicini al centro cittadino. Allarme tra i residenti e gli allevatori. visti dall'assessore Ghiselli sulla collina del paese, Ucchielli scrive al Ministro bisogna risolvere il problema. Intanto, dopo il decreto, Sant'Angelo in Lizzo la sarà rinviata all'inaugurazione di Sant'Egidio dopo i lavori terminati. Mentre sul fronte, questo era il periodo in tempi l'anno scorso, si parlava di tartufi, di profumi e quant'altro. Quest'anno la storia è completamente diversa. Mercato del tartufo. Solo l'estero ci salverà. Ristoranti chiusi, crolla la domanda e prezzi si abbassano. Ma per Bruno Capan la salvezza è nella internazionalizzazione. Lo chef Alberto Melagrana, questa mazzata arriva nel momento più atteso. Ma io non lo deprezzo. Mentre Giuseppe Cristini, temo che tanto prodotto rimarrà invenduto e nessuno farà le scorte. Siamo a 2.400 euro al chilo. Nel 2017, pensate, costavano 6.000 euro al chilo i tartufi. Oggi 2.400. I costi variano molto, i pezzi sotto i 15 grammi ora hanno un costo di 1.300 euro. Siamo sullo sport, le pagine sportive. Vitamina Stramaccioni. Alla visse manca sempre un pizzico di cattiveria. Il difensore destinato alla Juventus è andato in gol a Perugia. Una bella soddisfazione ma non è bastata. Siamo tutti arrabbiati. Eravamo entrati e rientrati in gara. Ma alla fine una disattenzione ci è costata cara. Mentre sul fronte fanese un fano da resettare. Questo è il titolo del Corriere. Approccio sbagliato e punito al minimo errore anche dal Mantova. La brutta china prosegue. La società prova a rialzare. Alzare il livello di competitività della squadra. Brero aggregato al gruppo. In fondo, mai così male dopo sette giornate negli ultimi quattro anni, dice l'allenatore del fano Alessandrini. Dai cinque punti con Cusatis ai sei di Epifani e Fontana. Alla fine tutti esonerati. E queste sono le fotografie invece che avevo selezionato per voi. Il rassegna stampa. Sono le fotografie che riguardano l'eruzione della polizia. Ieri nel ristorante pesarese. Un'eruzione che abbiamo seguito in diretta su Fano TV. Questi sono i commensali all'interno. 90 persone. Questa è la polizia che parla con il titolare e lo sta convincendo in qualche modo a chiudere il locale. Lui però non ne ha voluto sapere. Dunque vedremo come andrà qui il brindisi con i suoi commensali, tra cui anche alcuni colleghi evidentemente. Ma insomma, questa è un po' la storia. Questa è la polizia. Anzi, abbiamo anche il filmato. Avevo selezionato anche il filmato. Non so se possiamo intanto farlo vedere. Ecco, il filmato, uno dei tanti filmati che vi abbiamo fatto vedere ieri in diretta, con l'arrivo delle forze dell'ordine, che poi hanno, queste erano le primissime immagini, insomma, delle forze dell'ordine che sono andate poi a chiudere il locale. Il locale che resterà chiuso fino alla fine del mese. 400 euro di multa per ora, ma sicuramente ci saranno strascichi, anche giudiziari evidentemente. Questa però è la fotografia di quello che sta accadendo in queste ore nel nostro Paese. Siete d'accordo? Qualcuno ieri, abbiamo avuto tanti messaggi, si è schierato con il ristoratore, ha fatto bene, altri invece no. Va tutelata la salute pubblica, ma soprattutto va rispettata la legge. Dunque, da una parte la legge, dall'altra la disperazione. Da che parte stare? Difficile dirlo. Ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.